Domenico 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 Quando ho conosciuto Domenico mi ha parlato di questa idea che all'inizio mi è sembrata un po' bizzarra. Attraverso un oggetto, quindi attraverso una lente piccola, raccontare un pezzo di storia del mondo. Questo oggetto è il Kalashnikov che Domenico dice essere il vero oggetto della modernità. Noi siamo abituati ad avere continuamente uno smartphone tra le mani, a usare il computer. Ecco, non sono quelli i veri oggetti della modernità ma è questo fucile che si può usare veramente con una semplicità disarmante. lo può usare anche un bambino. Ecco, Domenico, partiamo da qui. Spiegaci perché appunto la scelta di questa lente particolare e perché secondo te il Kalashnikov è il simbolo del secolo crudele. Dunque, buonasera a tutti. Allora, io il Kalashnikov l'ho incontrato nel mio primo servizio da inviato di guerra, come dicevo una volta. Mozambico, guerra civile in Mozambico anni 80 del secolo scorso. Il Kalashnikov è sulla bandiera del Mozambico. è un elemento che fa parte della bandiera dello Stato indipendente del Mozambico. Ha ragione perché grazie al Kalashnikov i Mozambicani hanno vinto la guerra di liberazione contro il tardo colonialismo portoghese. Se voi prendete i vessilli di Hezbollah, che ahimè in questi giorni ricorrono spesso in televisione, vedrete che sulla bandiera di Hezbollah c'è il Kalashnikov. Allora, io ho girato un po' il mondo, se ne vedete una parte del mondo, il mondo diciamo delle guerre, delle guerriglie, dei golpi, degli scontri civili, incivili, del fanatismo, del giadismo. E quello che ho sempre incontrato è questo fucile d'assalto AK-47 che ha preso il nome del suo inventore, Mikhail Kalashnikov. Allora, è l'arma delle rivoluzioni terzomondiste, Mozambico, il Vietnam. Il Vietnam è la guerra che ha dato la notorietà al Kalashnikov. è l'arma dei massacri etnici, soprattutto in Africa, è l'arma dei golpi, è l'arma degli eserciti dei bambini, in Africa e non soltanto in Africa. è l'arma del 7 di ottobre. Gaza, Hamas, usa dei Kalashnikov, anche se di ultimissima generazione perché comprano quelli o il calcio di legno degli anni 50. Allora, voi andate nelle guerre urbane, Aleppo, il Kalashnikov è re. Voi andate nelle savane dell'Africa equatoriale, tutte le armate di briganti, guerriglieri, sono armati di Kalashnikov. Andate nella giungla colombiana o scendete verso il rio dell'Amazoni, sono armati di Kalashnikov. Nelle pianure dell'Ucraina due eserciti combattono, russi e ucraini, imbracciando il Kalashnikov. Singolare, diciamo, punto di contatto in storie che si sono diversificate tragicamente, ma che si sono intrecciate per lungo tempo. Forse un po' questo è il senso di questa tragedia. Allora, questo non è, e lo scrivo credo nelle prime righe, questo non è la storia di un'arma, a me non interessa. Cioè, se voi volete sapere perché il Kalashnikov, come funziona il Kalashnikov, con quanti, boh, sì, quanti colpi ora, lo posso raccontare perché io l'ho pur utilizzato, ma a quanti centinaia di metri tira, se è più preciso o meno preciso, che so, dell'M16 americano, dell'Uzi israeliano, di tutti gli altri suoi concorrenti, boh, comprate un altro libro. È una cosa che non mi riguarda, non mi interessa. Io ho cercato qualche cosa che mi permettesse di attraversare la tragedia della seconda metà del Novecento e della prima parte del terzo millennio. E questa cosa, questo oggetto, tre chili, ferro, legno, adesso sono metalli più sofisticati, caricatore di 32 colpi, tre tacche, sicura, tiro singolo, raffica. Basta spostarlo con il dito e uno, un bambino, può effettivamente utilizzarlo nei tre modi. Ecco, questo oggetto è il Kalashnikov. Ci sono decine di milioni di uomini in questo momento, qui ed ora, come nella seconda metà del Novecento, che quando sono piccoli ricevono come oggetto della modernità, non che glielo regalino, glielo mostrano, glielo mettono in mano, del padre, il fratello, il nonno, il cugino, il parente più importante, questa cosa qua. E glielo fanno toccare, smontare, rimontare. Conosco bambini che in varie parti del mondo che come gioco, quando qui hanno la Playstation piuttosto che qualcos'altro, si vendano e lo smontano e lo rimontano ad occhi chiusi. con una rapidità che non credo neanche qualcuno delle forze speciali degli esercizi occidentali sarebbe in grado di fare. C'è nel rapporto tra un guerrigliero, un combattente armato di Kalashnikov, parlo di Grozny, come parlo di Mogadisho, come parlo del Mozambico o del Sahel, c'è un rapporto fisico con questo oggetto. Nel senso che quando ce l'ha in mano, voi sentite che lo, come dire, lo palpa. Vorrebbe quasi trasformarlo come un suo terzo braccio. perché questo? Perché sono popoli feroci, perché sono fanatici di Dio, perché sono... Ma no! Ma no! Assolutamente no! Perché quello è lo strumento che fa sì che abbiano qualche probabilità in più di sopravvivere fino al mattino del giorno dopo. Chi ha il Kalashnikov in vaste parti del mondo, in continua espansione, in continua espansione, non in restrizione, è un essere umano. Posso raccontarvi degli episodi, ma quello che racconto sempre, qualsiasi... Mogadisho anni 90, forse... Non so se è l'episodio... No, quello è l'episodio di quando vado a comprare il Kalashnikov per 20 dollari, 30 dollari dal mercato, come noi andiamo a comprare la frutta e la verdura. Parlo della Somalia dei signori della guerra, ma adesso la Somalia dei Shebab non è diversa. Allora, voi attraversate un mercato. Prego? Quanto pesa? Tre chili e mezzo. Poi ci sono delle versioni da paracadutista, quelli con il calcio reclinabile che pesano meno, ovvero, diciamo, il modello... Tre chili e mezzo. Tre chili. Con il caricatore, cioè con il prego di caricatore, che forse è il suo unico difetto, perché un caricatore è ricurvo, per cui è un po' scomodo da utilizzare quando uno magari è sdraiato, deve tenerlo sollevato. Vabbè, comunque queste sono robe per guarafondare, io portengo da un'altra famiglia. Allora, che stavo dicendo? Non mi ero più. Ma, per esempio, stavi raccontando della Somalia. Ah, ma qualsiasi posto di questi che sono citati... Tenete presente che quelli che sono stati scelti non sono che una piccola parte dei luoghi in cui io l'ho visto in azione. Certo. Perché se avessi dovuto metterli tutti, facciamo un'enciclopedia di duemila pagine. Questo è tragico, eh? Questa è una considerazione tragica. Allora ho scelto alcuni luoghi, alcuni episodi che mi sembravano più significativi. Ma torniamo appunto a questo concetto. No, mi finivo un attimo. Tu attraversi un mercato di una città africana, in cui c'è la gente che vende le sue povere cose. A un certo punto, una cosa che mi è successa, in Mali, vedi un tizio che avanza tenendo il suo kalashnik per la canna, come i vecchi Ascari che avevano il 91 quando c'era l'impero, l'impero, il transeunte impero dell'Africo orientale. E avanza, avanza verso l'Italia. A un certo punto verso di lui va un altro uomo, un'altra cabbilla, né? disarmato. Disarmato. L'uno e l'altro non si sono mai incontrati. Non sanno come si chiama, da dove viene, eccetera. C'è qualche cosa in quell'uomo che quello con il kalashnikov trova ostile, inaccettabile, che so, una barba non abbastanza lunga, parlo i paesi musulmani, quindi una giallabia troppo corta, la caviglia coperta e scoperta, il colore della pelle che è un po' più scuro, un po' più chiaro, tira giù il suo arnese e gli spara. Lì, nel mercato. Quello va giù per terra. Il sangue si allarga nella polvere e nell'immondizia. Nessuno dice nulla o fa nulla. Il tizio si rimette il kalashnikov sulla spalla e se ne va. Nessuno verrà mai a cercarlo perché non esiste stato, non esiste giustizia. È un non stato come buona parte del mondo che ci circonda a due ore d'aereo, dove tutto quello che per noi è normale e inesistente, metafisico, un sogno. Non so, perché sognare bisogna avere un'idea di cosa sogni. Neanche quello possono sognare. Ecco, allora questa è una tipica scena che voi potrete incontrare migliaia di volte ogni giorno in quelli che io chiamo i paesi del non diritto, che sono i paesi del kalashnikov, dove il possedere quell'oggetto è quello che ti dà il diritto di fare qualsiasi cosa e ti costringe a subire qualsiasi cosa. Allora, questo libro è un tentativo che io peraltro portavo avanti a molti anni, anche con altri libri, anche quello che scrivo sul giornale. devo dire in vano, e questo è un po' il segno della mia sconfitta professionale, anche personale, umana, di cercare di far capire a chi vive in questa parte del mondo che attorno a sé il mondo non è come il nostro. È il contrario. Ci sono milioni di uomini in cui possedere una cosa, una diabolica e straordinaria invenzione significa il passare da uno status ad un altro, cioè quello di essere uomo quindi con dei diritti, delle possibilità, perché il concetto di diritto in questi paesi non esiste, è legato alla forza e alla violenza, a non avere niente, cioè essere un insetto, una pietra, qualcosa che si può calpestare, buttare via senza alcun problema. Allora, lo scopo di questo libro, se i libri hanno uno scopo, se non la gioia di scriverli, è questo. Tentativo di far, soprattutto ai più giovani, che noi abbiamo avuto un'enorme fortuna forse, ma anche dopo il 24 di febbraio 2022, di non conoscere la guerra. Io sono uno che è nato e cresciuto in questo mondo, della non guerra, della pace, e è vissuto nella guerra. La guerra la conosco, l'ho attraversata mille volte in mille posti, e conosco quello che la guerra è. Il classico è semplicemente la modernizzazione di quella cosa che è violenza pura, e di cui, per fortuna, molte generazioni da questa parte del mondo non hanno esperienza diretta. Io, prima di fare questo mestiere, un bombardamento aereo, me lo facevo raccontare da mio padre e da mia madre, che avevano subito i bombardamenti di Torino e di Milano durante la Seconda Guerra Mondiale, gli inglesi, Wellington, eccetera, eccetera. e mi andavo a sentire, poi guardavo i film, ma il film non è la guerra, il film il morto si rialza, il sangue e il succo di pomodoro, è tutto finto. Invece attorno a noi la guerra è la quotidianità, di cui questo oggetto, inventato da questo Mikhail Kalashnikov, Homo Sovieticus, diciamo nel senso più perfetto della sua storia, è lo strumento quotidiano, è quello che ti dà la vita, il potere, la ricchezza, ti permette di saccheggiare, di rubare, di intimidire, di stuprare, e tutte queste cose qua. Normali in questo mondo, e in questo mondo il bambino impara come unica cosa, perché le scuole non ci sono, perché non ci sono i giochi, perché a 7-8 anni nel mondo del Kalashnikov sei già adulto, perché? Perché puoi uccidere, e di questa facoltà tremenda devono ringraziare Mikhail Kalashnikov, non ha rincuro, un bambino può impugnarlo e sparare, non è importante essere uno che mira bene, il Kalashnikov non serve a niente in quel senso, lo tieni a questa altezza, a destra a sinistra, brandeggi, tiri giù le tue levetta, e ammazzi 30-30 persone, 32, che stanno davanti a te. Ecco, allora il bambino diventa assassino, e a quel punto lì lo hai arvolato per sempre. questo è la storia di un'arma, che è molto più di un'arma. E infatti tu dici il Kalashnikov è la traduzione meccanica, appunto, tre chili scarse di ferro e legno è un meccanismo semplice, della legge per cui qualsiasi vita vive sulla morte di altre. Quindi è esattamente quello che appunto stavi dicendo, per cui in una certa parte di mondo, che noi forse ci dimentichiamo, non vogliamo vedere, appunto il Kalashnikov è quello che fa la differenza tra un uomo e un mucchio di stracci fondamentalmente. Quindi quello che fa questo libro è anche un invito, come dire, a ribaltare questa prospettiva e il Kalashnikov ce la fa, è l'oggetto di questo ribaltamento. Allora, i capitoli appunto, come diceva Domenico, abbiamo selezionato una serie di paesi che ci fanno fare questo tour nel cuore nero della violenza, che sono il Mozambico, la Somalia, il Congo, la Siria, la Cecenia, l'Ucraina e poi arriviamo fino a Gaza e alla terribile attualità. Ma abbiamo costruito questo libro con degli intermezzi, questi intermezzi, questi intermezzi che appunto sono intercalati tra questi capitoli, raccontano la vita dell'inventore appunto del Kalashnikov, di Mikhail Kalashnikov. Allora, raccontaci un po' perché questa biografia è così importante, cioè cos'è la vita di Mikhail Kalashnikov e che cosa ci possiamo leggere. Perché questo oggetto poteva essere partorito proprio solo da lui e dalla sua? Piuttosto che solo da lui, soltanto in un luogo che era la vecchia, l'antica Unione Sovietica. Dunque, io mi sono preso una grossa libertà. Lo scrittore è un po' demiurgo, si può permettere qualsiasi cosa. Allora, faccio raccontare la propria vita dallo stesso Mikhail Kalashnikov. non c'è nulla che non sia assolutamente rigorosamente vero in quello che c'è, in questa sua autobiografia che inizia con una frase indicativa io non sono responsabile di niente. Io sono semplicemente uno che ha inventato una cosa per difendere il suo paese. Poiché gli altri lo usino in mille modi questo non mi riguarda, che è un po' il... Diciamo da Nobel in avanti nell'inventore della dinamite è un po' la scorciatoia con cui molti di questi costruttori di organismi di morte, di oggetti di morte, si autocostruiscono. Allora, Mikhail Kalashnikov era nato nel 1919, un anno dopo la rivoluzione di ottobre. La sua famiglia, che era una famiglia di culachi, inteso nel senso di piccoli contadini, che avevano, che so, due mucche, tre galline e un campo, che però nella geografia annientatrice di Iosif Vassarioni di Sugarsvili, detto Stalin, dovevano sparire dalla faccia della terra per consentire la creazione di una massa necessaria all'industrializzazione del presidio del proletariato mondiale. Allora la famiglia di, quando lui è bambino, molto piccolo, viene portata, caricata sui terrificanti carori bestiame del Gulag e spedita in fondo al Kazakhstan, alle steppe kazache. scendono dal vagone e gli dico adesso voi dovete vivere qui e non potrete spostarvi mai di qua. E lui racconta che il capo dei gendarmi dell'NKVD che li ha seguiti gli dice adesso non potete più chiamarci compagni, voi non siete niente. Allora con enorme, il padre di Calasico muove praticamente di fatica e di disperazione, per questo credo anche due suoi fratelli sono morti durante questa tragica vicenda. Lui quando è già un po' più adulto fugge dal Gulag in un modo avventuroso, rocambolesco, perché anche questo sistema così perfetto della macinazione degli esseri umani ha delle palle. Torna nella sua città, nella sua città natale dove vive la sorella che ha sposato un bolscevico e quindi è sfuggita alla deportazione e va a cercare la casa dove lui era nato che è stata distrutta perché sarà diffusa la voce che il culaco aveva nascosto lì un tesoro eccetera eccetera. Viene la guerra, viene arruolato, lui ha dei documenti falsi, si fabbrica grazie ad un amico dei documenti falsi, viene arruolato, combatte contro le panzer divisioni al carolista, contro le panzer divisioni di Guderian, viene ferito e portato in ospedale. ha sempre avuto fin da bambino una straordinaria abilità manuale, il classico non era niente, non era perito tecnico, non era ingegnere, non era nulla, non ha praticamente neanche fatto studi di meccanica, però era una straordinaria capacità di assemblare gli oggetti, di creare delle cose meccaniche che funzionavano con dei residui che trovava, dei rottami che trovava in giro. Già durante il servizio militare si è fatto notare perché aveva studiato un sistema di puntamento della mitragliatrice del cavo armato eccetera, durante la sua convalescenza notano questa sua abilità e lo spediscono in un laboratorio dove vengono ideate o perfezionate delle armi. e lì nel 1947 Kalashnikov con documenti falsi fuggiasco dal gulang crea la K-47, fucile d'assato, mitragliatore eccetera. Nel suo racconto e non lo ha mai raccontato in realtà questa invenzione è anche frutto di una collaborazione obbligatoria di un ingegnere tedesco che era quello che aveva creato la pistola mitragliatrice della Wehrmacht che gli insegna pareti trucchi ma che è un prigioniero gli è stato messo vicino perché è stato catturato dall'armata rossa ma questo lui lo sorvola. Vince il concorso per un'arma della fanteria e diventa Mikhail Kalashnikov riceve il premio Stalin viene nominato eletto con le elezioni ovviamente pilotate dell'epoca al Polibro e racconta i suoi viaggi a Mosca Stalin di persona non lo ha mai incontrato è felicissimo perché gli hanno raccontato che tiene un esemplare Stalin tiene il padre dei popoli tiene nel suo ufficio al Cremlino un Kalashnikov vince il premio Stalin credo due volte se mi ricordo supera intanto il Kalashnikov diventa famosa con la guerra del Vienna comincia a essere distribuito ai paesi satelliti del patto di Varsavia vengono create delle fabbriche nei paesi fratelli Polonia, Ungheria dove i Kalashnikov sono riprodotti perché è molto semplice la stampo è una cosa che non richiede neanche particolari catene di montaggio eccetera Stalin muore avviene nel lungo periodo della stagnazione brasileviana che lo fa di nuovo eroe dell'Unione Sovietica eccetera eccetera Kalashnikov non ha mai guadagnato un copeco dalla sua invenzione non perché fosse all'interno di un sistema di un'economia non di mercato ma semplicemente perché l'Unione Sovietica non ha mai come dire fermato il copyright di quell'arma per cui è stata copiata e riprodotta in milioni di esemplari senza dover sbossare una lira passa l'epoca breznewiana lui lavora in una di queste città proibite agli stranieri dove ci sono i grandi laboratori dell'industria bellica russa poi dopo Brezhnev attraversa la fase finale dell'Unione Sovietica l'avvento di Gorbaciov che lui odia veramente detesta perché perché l'uomo che ha distrutto il suo mondo lo ha liquidato lo ha messo in liquidazione più di Gorbaciov odia soltanto Yeltsin che quella liquidazione trasforma in un affare criminale per cui tutto è finisce all'aria la sua i soldi che ha messo da parte la sua pensione di generale perché infatti l'hanno fatto generale ma semplicemente che a un certo punto durante la guerra a Freda un giornale americano racconta che l'inventore del Kalashner che ha che ha sconfitto gli americani in Vietnam è un tizio che aveva come come grado nell'esercito sergente mentre invece quello che ha inventato l'M16 che è il rivale americano del Kalashnik è miliardario viagginario personale eccetera eccetera per far vedere che non è lo fanno generale poi finisce Yeltsin arriva Putin e Putin lo decora pure lui ripetutamente ci sono delle fotografie in cui si vede questo Putin ancora diciamo dei primi anni del 2000 quando sta un po' rassodando il suo modello post sovietico un po' distratto ascolta questo signore con i capelli bianchi la giacca coperta fino all'ombelico da medaglie decorazioni eccetera eccetera con una tovaglia di un tavolo di Natale però un po' come dire uffa che noia per me da sorbire questo qua nel 2013 muore muore Putin va al funerale arriva in elicottero ci va il capo attuale capo dell'esercito dell'esercito russo quello che avete visto anche vediamo sempre sul sul giornale che hanno già dato per liquidato da due anni che sta sempre lì si leggerà qualche buona conoscenza e viene seppellito in questo mausoleo degli eroi della della Russia per decisione di Putin allora la storia la biografia di Putin di Kalashnik è la storia dell'unione sovietica della Russia voi leggete le vicende della sua vita e fate prima che leggere cinque volumi sulla storia dalla rivoluzione d'ottobre fino ai giorni nostri è tutto lì è come posso dire antropologicamente descritta nella storia di questo omino altro così delle sue peregrinazioni le sue disavventure dei suoi incontri scontri e e con il potere con i poteri che si attraversano questa storia tragica leggendaria e l'oggetto che lui ha creato e lo dico come poteva nascere solo lì non c'è nessun altro paese in cui avrebbe potuto essere creato un oggetto simile che è l'espressione di una tecnologia rosa elementare il Kalashnik è un'arma molto semplice e la semplicità è il suo punto di forza destinato a dei combattenti come erano non so i soldati russi dopo quella gente che non ha una particolare addestramento una particolare istruzione tecnologica quindi ha bisogno di usare qualcosa che sia semplicissimo e quindi anche un guerrigliero un analfabeta miliziano di qualche gruppo banditesco dell'Africa centrale impara subito ci va due minuti non gli devi insegnare niente ed è la simbologia più straordinaria che io abbia mai incontrato della progressiva discesa agli inferi di una delle più grandi utopie politiche ideologiche sociali del novecento cioè la rivoluzione d'ottobre il comunismo il socialismo reale chiamato come le pare e la sua progressiva eh disintegrazione nel nella nullità nell'inconsistenza nella bugia nella nella che porta poi a fino al sistema putiniano in fondo l'arma simbolo delle rivoluzioni delle rivoluzioni nazionali è diventata poco a poco nel corso dei decenni l'arma come dire più desiderata lo status simbolo dei gruppi criminali delle banlieue francesi per esempio i gruppi criminali delle marsigliesi o delle banlieue il passaggio dalla piccola delinquenza di quartiere al grande banditismo è segnato dal possedere un 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 kalashnico lo comprano a tonnellate negli immensi depositi delle stati dell'ex Jugoslavia costa boh se voi lo andate a comprare nel terzo mondo potete comprare un kalashnico buono con 50 70 dollari se lo fate arrivare nascosto negli assali di qualche camion che trasporta le merci dalla Croazia piuttosto che dal Montenegro dalla Serbia dalla Slovenia in Francia lo pagate 400 500 dollari poco molto poco se volete una lettura contrapposta se ricordate questa vecchia battuta che circolava nel West Dio ha fatto gli uomini diversi il signor Colt li ha fatti uguali perché se uno era svelto a tirar fuori la pistola anche se l'omone che l'avrebbe fatto a pezzi a pugni andava per terra morto stecchito il calastico è un po' la trasferimento in chiave più di di masse di questo principio il Mujahideen afgano poi diventato talebano afgano perché c'è una continuità perfetta anche proprio di persone con quella a fare lì e solo con quella a fare lì ha sconfitto i due più grandi eserciti della storia dei tempi moderni cioè prima i russi che erano pure armati loro di Kalashnik ma avevano gli elicotteri i bombardieri tutto quello che volete ciabatte e Kalashnik e Mujahideen hanno costretto i russi ad andarsene e hanno dato inizio alla autodisintegrazione dell'unione sovietica che si è scoperta quello che era cioè un paese alla fame alla miseria nella disorganizzazione più totale e poi hanno sconfitto la iper modernità bellico guerresca degli americani con la stessa arma e senza null'altro e altri che stanno purtroppo per loro facendo un'amarissima prova di quanto quest'arma sia lo metto tra virgolette democratica cioè renda i deboli in grado di combattere anche contro i più forti sono gli israeliani gli israeliani stanno perdendo militarmente la guerra con Hamas nel senso che non riescono a dire Hamas è armata di Kalashnik non è che hai si ha quei misi che razzi che tira ogni tanto ma quello non serve a niente i miliziani che avete visto nelle terrificanti scene del 7 di ottobre impugnano tutti l'ultima generazione del Kalashnik l'ultima generazione della creazione di 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 Mikhail Kalashnikov i Kalashnikov di Hamas padroni del Dostoevskiano sottosuolo dei 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 tunnel della cosa stanno sconfiggendo il quinto esercito del mondo da due mesi e più no quanto è di più novembre tre mesi stanno costringendo non riescono a annientarli non riescono sono sempre lì addirittura adesso sono rispuntati a Gaza città era data per talmente distrutta che manco più i topi potevano e invece sono di Mori con i loro Kalashnik quei quei giovanotti vestiti di nero con il cagulè con la maschera con il ecco io ho visto delle scene di questa roba qua e ho ritrovato questa tattilità il fatto che ci sono degli uomini nel ventunesimo secolo in cui c'è un piacere quasi mai posso dire sessuale nel toccare qualcosa che dà la vita e la morte se lo stringevano mentre gli arrivavano le folate di musica rap dall'altra parte del muro eh e c'erano gli altri giovani quelli di un'altra storia di un'altra vita di un'altra di altri sogni di altre necessità di altre speranze ecco loro la musica li investiva eh come come degli schiaffi giganteschi del mondo che loro odiano e che vogliono spazzar via e in mano c'avevano quella cosa di ferro con cui potevano realizzare la loro vendetta saldare i conti ecco il ventunesimo secolo è il secolo della guerra della violenza della guerra riportata alla sua natura intrinseca cioè violenza pura senza regole senza senza pietà tutte le guerre che sono intorno a noi sono guerre senza pietà comprese quelle combattute da eserciti strutturati con catene di comando con gli uffici comunicazione con il giornalista embedded la guerra è tornata a essere quello che è che è sempre stato il massacro dell'altro la sua distruzione fisica il suo annientamento di tutto ciò che questo ha messo nel paesaggio le rovine la 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 brutalità il saccheggio la distruzione lo stupro queste sono le guerre del ventunesimo secolo non le guerre dell'età barocca le guerre andante del 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 settecento o le guerre del medioevo la guerra ha ritornato a essere quello che è a dettare lei le regole il diritto internazionale è una balla colossale non esiste è una creazione che va bene per fare delle cattedre universitarie è inapplicato ovunque è inapplicabile chi vince lo usa per punire quello che ha perso e viceversa non esiste un diritto bellico è una sciocchezza da da talk show l'unica regola nella guerra oggi come ai tempi di Omero è annientare l'altro vincere sei vinto tutto quello che hai fatto tutto quello che hai fatto anche le cose più orribili diventano lecite meritorie straordinariamente perfette tutto questo in questo pezzo di ferro lo so magari non non sono riuscito a raccontarlo bene ma direi di sì invece direi che invece l'hai raccontato molto bene e nel come dire questa cosa che a te interessa della guerra cioè l'insignificanza dell'uomo è questo che esce fuori in maniera in maniera drammatica quando gli uomini finiscono quando non si contano più perché non si contano più pensiamo adesso appunto alla alla guerra che è ritornata prepotente dove mancava da decenni pensiamo all'ucraina e appunto tu hai detto più volte che sì ci sono i bollettini dei soldati che vengono sbandierati da una parte e dall'altra per fare tire molla su chi sta vincendo appunto questo l'uomo è smarrito in questo senso dov'è l'uomo ce lo stiamo ce lo siamo persi che mi ha molto colpito nel massacro del macello in ucraina di cui peraltro lo stesso Putin si è assunto tutte le responsabilità di fronte alla storia visto che è pure venuto in televisione a dire che lui aggrediva l'ucraina quindi non è che neanche cercate di di barare da questo punto di vista e questo sarà cioè la responsabilità di questa di questo macello gli appartiene totalmente storicamente giuridicamente tutto quello che volete ammesso mai che che ci sia se perde la guerra verrà processato se la vince processerà lui Zelensky come traditore nazista e boiardo di qualche potere venduto all'occidente questa è questa è la regola allora la cosa che mi ha colpito fin dai primi tempi è che il numero delle vittime tra i soldati dei due eserciti non li conosce nessuno se non i rispettivi stati maggiori e i loro alleati diciamo più potenti quanti morti ha avuto la russia e quanti morti ha avuto l'ucraina è un segreto gelosamente custodito ci sono delle cifre che circolano che sostengono che più o meno le due cose si equiparano 200.000 da una parte e 200.000 dall'altra forse un po' di più per i russi fino a un certo periodo di tempo per una vecchia regola che vi insegneranno quelli che sono stati all'accademia di Modena cioè che chi attacca perde tre e chi difende perde uno ma quella è una scemenza ma è vero dipende da come attacchi da come ti difendi che mezzi hai quindi diciamo che 200.000 e 200.000 possono essere delle cifre accettabili forse in ascesa non in discesa cioè una stima diciamo ottimistica se è mai possibile usare un termine in questo genere per dei morti sappiamo che ci sono i morti civili beh quelli vengono contati tre bambini uccisi nella panetteria cinque morti nel palazzo che colla ma perché quelli servono a imputare all'altro i cosiddetti crimini di guerra che poi nessuno andrà mai a giudicare se non è sconfitto questo significa che cosa? significa che si è superato una linea che io trovo orribile è estremamente pericolosa quella in cui il conflitto ha cancellato qualsiasi significanza di coloro che lo combattono cioè non hanno alcun valore i morti i caduti non si contano più perché non sono inutili sono semplicemente il rischio di dover ammettere di aver subito una sconfitta esattamente quello che è accaduto nella prima guerra mondiale guerra a cui il conflitto in Ucraina assomiglia molto anche per le modalità posto che ci sono degli strumenti bellici più sofisticati di quelli dell'epoca però è una guerra di trincere in cui alla fine conta l'ondata di quelli che assaltano e le mitragliatrici i mortali degli altri che cercano di fermarli prima che arrivino alla loro linea nella prima guerra mondiale tra il 14 e il 18 un intero continente non ha più contati morti voi sapete basta leggere i diari di Cadorna ma quelli di Nivelle piuttosto che quelli di Foscio quelli di Falkenheim o Fomolch e il giovane sono identici cioè quanti uomini abbiamo per la quinta battaglia dell'Isonzo allora abbiamo 70.000 uomini beh prima ondata 40.000 morti già dati per nel momento stesso in cui escono dalla trincea le mitragliatrici degli altri la contro batteria degli altri li annientano quindi già erano dati per ma vengo descritti così eh se leggete le riunioni del famoso comando supremo a Udine la prima ondata ce ne costa 40.000 seconda ondata perché poi partono gli altri che sono dietro 20.000 ma arrivano alla trincea austriaca molto tedesca anche nelle nelle fiandre è lo stesso ci abbiamo una terza ondata ce ne restano 10.000 adesso non ricordo quel cifro detto all'inizio quelli possono occupare la trincea e tenerla fino a quando non riusciamo a mandare degli altri questo era il ragionamento strategico dei generali della prima guerra mondiale gli uomini non contavano niente contavano le munizioni la prima guerra industriale della storia dava un'importanza gigantesca se non unica a quanti proiettili d'artiglieria la industria nazionale riusciva a sfornare perché era quello che permetteva di portare avanti la guerra abbiamo un milione di proiettili d'artiglieria possiamo sparare per quattro ore riducendo tutto quello che sta di fronte a noi sperando di ridurre tutto quello che sta intorno a noi al nulla nella guerra dell'Ucraina esattamente la stessa cosa se voi apriti i giornali i telegiornali leggerete degli interessanti approfonditi articoli cosiddetti analisti bellici non so come si chiamino ex generali che non hanno mai fatto una guerra in vita loro ma vabbè dettaglio secondario e neanche non l'hanno mai vista se non al cinema che vi diranno noi occidentali c'è l'Europa e gli Stati Uniti vinciamo sicuro perché noi siamo in grado di produrre due milioni di proiettili che abbiamo delle industrie pazzesche due milioni di proiettili al giorno la Russia che è un paese diciamo primitivo e per certi aspetti pre-industriale anche se non nell'industria militare al massimo al massimo stritolata dalle sanzioni pure con l'aiuto del coreano del 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 bing eccetera eccetera al massimo può arrivare che so a settecentomila per cui secondo una regola matematica dopo un po' di tempo si apprenderanno calcoli non sto a sindacare se quanto erano attendibili o no visto che erano due anni e adesso entriamo nel terzo ancora lì e gli altri sparano come pazzi ma comunque evidentemente c'era qualche dettaglio che è sfuggito in questa analisi quello che mi interessa è che quello che su cui noi ragioniamo su cui le cancellerie gli uomini politici gli intellettuali gli esperti i giornalisti gli editorialisti e tutta questa banda allegra banda ragiona e sulle munizioni e se salvo qualche isolato personaggio il papa quello del del corso cattolico i pacifisti che ormai sono spariti dalla faccia della terra e sono una specie più più ridotta che il panda non si interessa non interessa 200.000 morti ma gli dobbiamo vincere che importa una spazzaria il nuovo Hitler o dall'altra parte è lo stesso ragionamento è lo stesso ragionamento pari pari infatti se ho detto che avrei voluto fare ma che non farò perché in Russia non mi fanno ovviamente entrare è di andare ad un funerale di un combattente falciato dalla mitraglia ucraina in qualche sperduto paese dell'Eurasia russa e forse servirebbe a capire molte cose perché la Russia non è non si è non si è arresa non si è decomposta di fronte all'urto delle potenze occidentali e che cosa dove è rimasto il senso dell'umano se è rimasto perché il destino degli ucraini è quello dei russi anche loro seppur essendo gli aggressori ma insomma i poveracci che vengono spediti al fronte poveracci sono dell'una e dell'altra parte gente che un mattino parte dal suo villaggetto la mamma morosa o la moglie gli mette nello zaino il panino e la 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 come si dice la cosa con i cetroioli perché è sotto l'eserzo gli sa se avrai da mangiare questi salgono sul treno o sull'autobus da una parte e dall'altra eh da da Lov a Leopoli a a Poltava fino ad andare a Yekaterinburg e Vladivostok nella Siberia russa e vanno a morire e questa è la guerra e questa roba qua eh mica sono il G7 la guerra sono questi poveracci che da una parte dall'altra vengono falciati via una generazione intera Ucraina è già stata spazzata via non esiste più non esiste più morti come quelli della prima guerra mondiale la prima guerra mondiale ha segnato un salto nella storia d'Europa perché è mancato due generazioni 600 mila morti in Italia ma nelle Fiandre la Francia ha cessato di essere una grande potenza eh perché non c'aveva più uomini e gli ucraini sono quasi al punto di non avere più uomini tanto è vero che rastrellano i 65 anni quelli che sono stati riformati perché avevano non so il soffio al cuore piuttosto che un'altra malattia gli mancano gli uomini ecco quando gli uomini sono considerati niente e quando finiscono ecco allora siamo passati dalla civiltà non lo so chiamatela come volete civilizzazione dicono i francesi che è un concetto un po' più vasto di quello che noi attribuiamo al concetto di civiltà siamo passati alla barbarie noi siamo nell'età del caos del disordine della barbarie in pieno in pieno perché l'uomo è un numero neanche un numero perché non lo si conta è lo stesso terrificante osceno spettacolo che voi incontrerete in tutti quei paesi che sono che sono citati in molti altri che non sono citati in quel libro in quel libro non sono neanche memoria se non la memoria dell'odio che è assai più efficiente di quella che invece celebriamo ogni tanto con giornate contro giornate ma quella va viene la si manipola qualcuno la rifiuta la memoria dell'odio è imprescindibile eterna ti possiede tutto milioni di uomini vivono nella memoria dell'odio e ucraini e russi sono stati immersi nella memoria dell'odio dopo aver avuto una complessa complicata contorta storia comune parlavano la stessa lingua i più grandi scrittori russi sono nati in Ucraina Bugakov andate a Chia adesso magari la vanno chiusa perché adesso si vergognano del fatto che questi scrivevano in russo ma dovranno scrivere la loro lingua la lingua del conquistatore era la loro lingua ecco allora gli ucraini e i russi progressivamente si stanno immergendo nella pentola bollente dell'odio i bambini ucraini i bambini russi cominciano forse l'avete visto l'immagine no? fanno addestramento con il calasnico di legno preparandosi ben presto a passare al calasnico di metallo perché anche lì a 10-15 anni cominceranno ad essere considerati adulti perché possono uccidere non perché possono creare studiare no perché possono uccidere che ho che 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 è è